La narrazione dei grandi quotidiani, così come delle tv pubbliche e private su Roma, è semplicemente vergognosa. Ed è una narrazione che risponde ovviamente a logiche di potere. Lo ha scritto su Facebook il deputato del gruppo misto Vittorio Sgarbi. Poi vai in mezzo alla gente, ad ascoltarla, a stringere mani, nelle periferie, a capire cos'è che non va in una città che è la capitale d'Italia solo sui libri. E capisci che in questo paese l'informazione è uno dei problemi. PD e 5 Stelle si preparano alla campagna elettorale come se fossero stati all'opposizione, mentre questa città l'hanno governata loro. Roma è una città spenta, che arranca, che vive di rendita, il suo straordinario patrimonio artistico, ma non decolla, ha scritto ancora il critico d'arte. La pandemia ha accentuato questo sfacelo. Dicono che la raggi abbia risanato il bilancio del comune, ma allora sarebbe bastato un ragioniere al suo posto. E i servizi, i trasporti, la raccolta dei rifiuti, l'illuminazione pubblica? Si è domandato Sgarbi.